Omega Deville Edimatic, eleganza tra arte e tecnologia Nel mondo raffinato dell'orologeria di lusso, il modello Deville Edimatic brilla come un'opera d'arte indossabile, unendo l'essenza dell'eleganza classica e l'innovazione tecnologica. Questo eccezionale orologio da polso è una celebrazione della femminilità e dell'arte orologera, dove design sofisticato e precisione si fondono in un unico gioiello. Uno degli elementi più distintivi del Deville Edimatic è il suo design affascinante e femminile. La cassa, realizzata spesso in materiali pregiati come l'oro e l'acciaio, è modellata per abbracciare il polso con grazia. Il quadrante, arricchito da dettagli raffinati, è un'espressione di eleganza e stile. Il design affascinante del Deville Edimatic si riflette anche nei dettagli intricati, come le lunette impreziosite da diamanti. Nonostante l'attenzione al design e all'eleganza, il Deville Edimatic non trascura la tecnologia avanzata. Questo modello spesso ospita il movimento coaxial, una tecnologia meccanica rivoluzionaria che migliora la precisione del movimento e la durata dell'orologio nel tempo. Il movimento coaxial è una dimostrazione dell'attenzione all'innovazione e all'ingegneria avanzata. La combinazione di design e tecnologia fa del Deville Edimatic un orologio che soddisfa sia l'occhio che la mente. Il Deville Edimatic ha attratto l'attenzione di personalità di spicco nel mondo dell'intrattenimento, della moda e dell'arte. Molte celebrità e icone di stile hanno scelto questo modello per la sua raffinatezza e il suo fascino senza tempo. La sua presenza al polso di figure famose ha amplificato il suo prestigio. Inoltre, il modello ha ricevuto riconoscimenti nell'industria dell'orologeria, testimonianza dell'eccellenza dell'ingegneria e del design. Questi premi riflettono il valore del Deville Edimatic nell'ambito dell'alta orologeria.